La prima inaugurazione del maggio da direttore principale sul podio di un'opera, la scelta a questo Orpheus Theoridis, Gluck. Sì, il mio debutto a 60 anni, dopo tanta musica, tanto teatro di Verdi, di Wagner, Strauss. Cominciare proprio con un'opera così lontana dal repertorio che in genere eseguo mi ha molto coinvolto dal punto di vista proprio teatrale e ho trovato tre colleghi meravigliosi nel cast, un collega meraviglioso nella regia in Piero Di e un teatro veramente straordinario in tutti i suoi aspetti, orchestra, coro.